Ciao Simone, questa sera non è andata bene, avete perso dopo otto risultati utili consecutivi. Cosa non ha girato nella tua formazione? È stata una partita che ha cambiato l'equilibrio dopo due minuti, tre, perché siamo stati un po' no ingenui, magari qualche decisione è stata presa un po' con troppa facilità e per quelle due punizioni di prima rimettere una gara su 2-0 con una squadra che lotta veramente per ogni punto e devo fare i complimenti a questo Montebello perché non si merita la sua classifica e un altro complimento al portiere perché veramente stasera è stato eccezionale. Come dici te, otto risultati utili, una striscia per una squadra come Serzana incredibile, siamo sempre terzi, quindi chi in questo momento vede il bicchiere mezzo vuoto è pessimista, ma noi dobbiamo continuare a lavorare, giovedì arriva il porto, sembra di vivere in un sogno, continuiamo così e vediamo dove ci porterà questa regular season e basta, complimenti al Montebello. Appunto come hai detto te, prima di affrontare il Montecco Precalcino in Serie A c'è da affrontare il porto, con quale testa la Serzana lo affronterà? Ricordo che al Dragao il primo tempo era 0-0, siamo usciti tra gli applausi di chi c'era, viene una squadra che probabilmente sarà nella semifinale o finale per vincere la Champions League e quindi noi siamo una piccola squadra di provincia e ci togliamo le soddisfazioni provando a giocare contro i più forti giocatori del mondo. La affrontiamo col sorriso che è il sorriso che ci ha portato terzi in classifica a quattro giornate alla fine. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie mille per il tuo tempo.